Ok Ebbè un bel casino Il coso elettrico va lasciato lì Dobbiamo solamente spostare questo E dobbiamo mettere qualcosa arancione di là Quindi questo lo rimettiamo di là Coso arancione Prendiamo il controllo E lo spostiamo di qua Poi lo mettiamo ancora più giù E lo arrottiamo Così Perfetto Poi Quello è a posto Dobbiamo spostare il coso viola E dobbiamo ruotare Rubale il gamer cheater Cheater Ringrazio il nuovo iscritto Che non l'ho potuto vedere purtroppo Perché insomma sto sistemando questa cosa Molto easy Andiamo a spostare questo qua E poi questo qui Lo ruotiamo Ancora Quindi stavamo dicendo Il cannone Luca però serve No ragazzi ci siamo Ci siamo Ancora un tasto Ok qua Dovremmo esserci Dovremo far fare ancora il giro Dovremmo esserci Proviamo Porco Giuda Dovremmo esserci